Ma perché mi dice che era una democrazia? Era una democrazia, era una stata racista, era un giorno di 90 perseguitata, maltrattata, tenuta senza acqua, espropriata, ruata, via via, era anche stato adatto che la democrazia degli ei. Ma fatemi furbi, ma fatemi perché è un po' di noi, ma anche nei legami di parentela. Ma penso è bravo, penso è bravo, penso è bravo, penso è bravo. Grazie.